Eccoci qui puntuali anche oggi per questa edizione del nostro telegiornale, la giunta regionale ha deliberato su proposta del presidente Roberto Occhiuto la richiesta al governo della dichiarazione dello stato di emergenza a seguito del maltempo dei giorni scorsi con un'altra delibera su proposta dell'assessore all'agricoltura Gianluca Agallo, l'esecutivo ha chiesto al ministero delle risorse agricole il riconoscimento dello stato di carattere naturale per le imprese agricole che hanno subito danni. Intanto il personale e i mezzi dell'ANAS sono impegnati H24 per garantire la viabilità sulla rete stradale calabrese colpita dal maltempo, in particolar modo nella zona della provincia di Catanzaro. L'ANAS continua a monitorare la situazione, a intervenire per garantire la sicurezza e la viabilità sulle strade interessate dal maltempo. L'ANAS intanto ha pure coordinato gli enti interessati per risolvere il problema delle opere idrauliche di raccolta e smaltimento che non sono state in grado di gestire l'eccezionale quantità d'acqua causando allagamenti delle sedi stradali. E intanto all'unica all'Università della Calabria nell'ambito del Tgcom 24 in Turzi è parlato di infrastrutture e di messa in sicurezza del territorio, ne ha parlato il sottosegretario Ferrante. La voragine che si è aperta sulla statale 280 che ha inghiottito un'auto con a bordo una 25enne, fortunatamente rimasta illesa, è un tema al centro dell'agenda del governo. Lo ha confermato il sottosegretario all'infrastrutture Tullio Ferrante intervenuto all'evento Tgcom 24 in Turzi all'Università della Calabria. È chiaro che al sud ed in primis in Calabria c'è un tema di recupero di quello che è il gap infrastrutturale in generale logistico, ovviamente rispetto alle aree del nord relativamente alle reti infrastrutturali europee. Per far fronte a questo divario è chiaro che il governo sta investendo delle somme che possiamo definire impareggiabili rispetto a quanto avvenuto nei decenni scorsi. Si pensi soltanto ai 124 miliardi di euro a valere sull'aggiornamento del contratto di programma dei fondi che verranno destinate al miglioramento e alla riqualificazione delle reti ferroviarie italiane. Per Ferrante la Calabria si vedrà destinare 37 miliardi di euro per il miglioramento e la riqualificazione delle strade medie ed intermedie e pensiamo solo alla rete ionica. È chiaro che andranno recuperati decenni di mancata progettazione, decenni di mancati investimenti nelle infrastrutture del sud. Poi sul ponte Ferrante ha sottolineato che l'infrastruttura incarna un cambiamento culturale volto a superare la cultura del sospetto che spesso accompagna la realizzazione di opere pubbliche. Non sarà una cattedrale nel deserto come altre narrazioni hanno suggerito ma una infrastruttura strategica che collegherà la Sicilia alle grandi rete transeuropee. L'ennesima morte sulla strada un 23enne Giovanni Andrea Bertucci è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 123 nel territorio del comune di Roggiano Grevina. Siamo in provincia di Cosenza. La vittima originaria di Mottafollone era alla guida di una Fiat Punto che per causa in corso di accertamento si è scontrata con un Alfa Romeo 159. Il conducente dell'altra vettura rimasto ferito è stato trasferito all'ospedale di Cosenza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rende, il personal 118, i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano che hanno provveduto a effettuare rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. Voltiamo pagina. Cronaca giudiziaria è tornata in libertà Maisun Majidi, la 28enne kurda iraniana che era stata arrestata il 31 dicembre scorso dopo uno sbarco di migranti. Era accusata di essere una scafista. Il collegio ha colto l'istanza che era stata presentata dal difensore della giovane, l'avvocato Giancarlo Liberati. Il servizio. Il tribunale di Crotone ha rimesso in libertà Maisun Majidi, la 28enne kurda iraniana che era stata arrestata il 31 dicembre scorso dopo uno sbarco di migranti con l'accusa di essere una scafista. Il collegio, presidente Edoardo D'Ambrosio, ha colto l'istanza che era stata presentata dal difensore della giovane, l'avvocato Giancarlo Liberati. La decisione del tribunale è stata presa in considerazione del fatto che, alla luce delle dichiarazioni fatte dai testimoni citati dalla difesa nel corso dell'udienza del processo, sono venuti meno gli indizi di colpevolezza a carico della 28enne. Siamo particolarmente soddisfatti, ha detto l'avvocato Liberati, del fatto che il tribunale abbia accolto la nostra istanza concordando con noi sull'insussistenza degli indizi a carico di Maisun Majidi. L'avvocato Liberati era intervenuto nel corso dell'udienza, durata otto ore e nel corso della quale sono stati sentiti i testimoni citati dalla difesa, chiedendo non più gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per la sua assistita, bensì l'assoluzione e la rimissione in libertà per assoluta mancanza di indizi. Tesi che è stata accolta dal tribunale. Il collegio penale di Crotone ha accolto la richiesta della difesa e riconosciuto il grido di innocenza che la profuga curda urla da dieci mesi. Per il tribunale Maisun va considerata la stregua di una mera migrante. È bastato ascoltare le parole dei quattro testimoni della difesa, marito, moglie e figlia di una famiglia iraniana e Rajan Majidi, fratello dell'imputata, per comprendere che Maisun non poteva essere una scapista né l'aiutante del capitano. In questi mesi il caso di Maisun ha attirato l'attenzione di organizzazioni per i diritti umani e attivisti che più volte hanno sostenuto che, come molti altri, sia una capro espiatorio delle politiche migratorie europee. 12 assoluzioni su 12. Dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione nel 2018, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha emesso la sentenza del processo alta attenzione, nato da un'inchiesta della squadra mobile che nel 2010 portò a numerosi arresti sui clan Caridi, Borghetto, Zindato, considerati all'epoca dei fatti, federati alla Cosca Libri. L'indagine riguardava il controllo dell'Andrangheta nella zona sud di Reggio Calabria. Tentano di estorcere del denaro a un malato ma vengono arrestati e posti ai domiciliari. Vediamo questo servizio. Su richiesta del GIP del Tribunale di Catanzaro sono stati messi agli arresti domiciliari due soggetti, rispettivamente padre e figlio, quest'ultimo di professione avvocato, per il reato di tentata estorsione. Le complesse indagini condotte dai finanzieri del gruppo della Guardia di Finanza di Catanzaro, che si sono articolate in acquisizione della denuncia e attività intercettiva, hanno portato alla luce la tentata estorsione nei confronti di due coniugi. L'uomo, gravemente malato, per ottenere l'indennità di accompagnamento riconosciuta dall'Inps, si era rivolto ad uno dei due indagati, che fino a qualche tempo prima lavorava presso un patronato di Catanzaro, per il disbrigo della pratica da inoltrare all'ente previdenziale ed era stato costretto a promettere, dietro la minaccia di revoca dell'indennità, la corrisponzione di 11.700 euro in denaro, in contante, pari alla quasi totalità della somma da percepire dall'Inps. Blitz vandalico nel parco intitolato a Gianni Rodari, a Cinque Frondi, siamo nel Regino, a segnalarlo è stato il sindaco Michele Conia. Simili azioni, dice il primo cittadino, sconvolgono i cittadini consapevoli della triste parentesi storica che ha squarciato la serenità e portato alla morte esseri umani innocenti, vittime del potere incontrollato del nazifascismo. L'odio, la discrimiazione e la violenza intrinseca in questi simboli non appartengono. ha concluso il sindaco al comune di Cinque Frondi. Da qualche giorno Sergio Ferrari, che è sindaco di Ciro Marina e anche presidente della provincia di Crotone, è stato eletto presidente di Ardical, la società regionale che si occupa di acqua e rifiuti. Lo abbiamo incontrato a Crotone. Presidente Ferrari, adesso anche nella qualità di presidente di Ardical, un commento intanto sulla sua elezione e soprattutto cosa farà? Intanto sono molto contento dell'attenzione che il territorio crotonese inizia ad avere sui radar regionali, quindi un incarico certamente prestigioso, quello affidato dai colleghi sindaci che ringrazio per la fiducia che hanno riposto in me, è certo una sfida importante perché Ardical è l'autorità rifiuti e risorse idriche di Calabria che dovrà in qualche modo andare a compiere passi importantissimi intanto sulla delibera, sull'approvazione del piano d'ambito regionale dei rifiuti e delle risorse idriche, sulla determinazione delle tariffe, insomma su tematiche che sono sensibilissime al territorio calabrese, a tutte le comunità e a tutti i cittadini. Come al solito metterò massimo impegno nel ruolo, nell'ottica di poter collaborare e condividere con tutti i colleghi sindaci, tutti, perché queste sono tematiche che la colorazione e l'appartenenza politica deve essere messa da parte. Bisogna lavorare con grande senso di responsabilità, con grande senso di appartenenza al territorio e mettere in campo quelle azioni virtuose che vanno nella direzione di migliorare e il settore dei rifiuti e il settore delle risorse idriche. Cosa le ha detto il Presidente Occhiuto? Il Presidente Occhiuto ha tenuto a sottolineare l'importanza e la strategicità del ruolo perché è chiaro ed è evidente che sono due temi sensibilissimi, importanti, strategici. Spero di poter essere adeguato al ruolo che mi è stato assegnato, ma certamente l'impegno sarà massimo perché le aspettative sono tante e io farò di tutto per non deludere nessuna aspettativa. Anche a Parigi il brand Calabria straordinaria è stato ancora una volta protagonista e strumento di attuazione delle politiche di promozione delle eccellenze di una terra identitaria per prodotti, sapori, odori, paesaggi, storia ma anche cultura. Più che positivo il bilancio della partecipazione della Regione Calabria alla SIA Paris. Più che positivo il bilancio di Regione Calabria in occasione della sessantesima edizione del SIA Paris, la principale fiera mondiale dell'innovazione alimentare. Le eccellenze dell'agroalimentare calabrese si sono dunque mostrate, ma soprattutto fatte apprezzare, ad una platea internazionale. La Calabria straordinaria, rappresentata da 28 aziende, ha convinto tutti. È stato così possibile da un lato far conoscere ulteriormente quello che la Calabria produce, dall'altro dare la possibilità proprio a chi produce di utilizzare una vetrina privilegiata. C'è entusiasmo, c'è movimento, lo abbiamo detto insomma, è da qualche anno per la verità che la Calabria in questi grandi eventi internazionali riesce ad occupare uno spazio interessante. Qualche cosa sta succedendo in questi ultimi anni? La Calabria in questi anni ha imposto la presenza, come è giusto che sia, raccontando la verità, la verità di una superiorità in termini di biodiversità, una superiorità in termini di fertilità e quindi di capacità produttiva nel settore primario che è il settore agricolo. E poi in questi anni, nel post-covid, abbiamo avuto tanti giovani che sono rientrati o non sono partiti e hanno deciso di cimentarsi con orgoglio e consapevolezza in queste attività. Orgoglio di appartenenza ad una terra straordinaria, consapevolezza che probabilmente la Calabria, pur rispettando tutti, non ha nulla in meno degli altri, anzi in qualche caso ha tante cose più degli altri. E quindi credo che tutto questo, insieme a un'intensa attività di promozione che significa raccontare la verità e quindi cucire alla nostra regione l'abito che le è proprio, sta portando risultati. Certo il Sial 2024, la più grande fiera dell'agroalimentare, la più grande fiera dell'agroalimentare, certo è che il Sial 2024, la più grande fiera dell'agroalimentare in Europa, doveva vedere la presenza della Calabria che è venuta a testa alta, con la schiena dritta come capita da un po' di tempo, portando 28 aziende che hanno fatto bene i compiti a casa e che mostrano tanta qualità. Adesso a Roma per la manifestazione promossa dalla Fondazione Magna Grecia, per l'occasione l'opera artistica La Colonna d'Oro, realizzata dall'orofo-cordonese Michele Affidato, è stata consegnata al Principe Alberto II di Monaco. Si è svolto a Roma il Premio Internazionale Magna Grecia. Dal 1997 la Fondazione Magna Grecia conferisce il riconoscimento a personalità di rilievo che si sono distinte nella promozione della cultura italiana e nella tutela del patrimonio storico a livello globale. A riceverlo quest'anno è stato il Principe Alberto II di Monaco. Con questo riconoscimento si è voluto premiare l'impegno del Principe che da anni promuove, rafforza e valorizza i legami speciali con l'Italia, in particolare con il Sud Italia. Il Principe Alberto II, con il suo profondo interesse per le tradizioni italiane, si pone come esempio di come la cultura possa unire, rafforzando i legami tra popoli e territori. La cerimonia è stata presieduta dall'onorevole Nino Foti, il quale ha consegnato al Principe la Colonna d'Oro, una straordinaria scultura realizzata dal maestro orafo calabrese Michele Affidato, presente all'evento insieme al figlio Antonio. Una scultura ispirata alla storica colonna di Capocolonna, unica superstite del tempio dedicato dagli antichi greci ad Era Lacinia. Le strade di Alberto di Monaco e del maestro orafo calabrese si sono incrociate in diverse occasioni. Durante la sua carriera, infatti, Affidato ha avuto l'occasione di creare altre opere per il principe. Per me è un grande prestigio contribuire con la mia arte a preservare e diffondere la straordinaria eredità della Magna Grecia, afferma Michele Affidato. Un'opera questa che da oltre 35 anni realizzo al fine di esprimere, attraverso di essa, un forte senso di appartenenza alle proprie radici, con l'intento di raccontare la continuità tra l'antica civiltà greca e il presente. Medicina di prossimità, nuove idee, nuove frontiere, se ne è discusso a Crotone. L'occasione è stata quella di portare a conoscenza i problemi ma anche le soluzioni necessarie in materia di sanità e di assistenza del malato. Il convegno organizzato dal Movimento Uniti per Migliorare la Nostra Salute, sotto la direttiva di Raffaella Dattolo, tenutosi nella sala consigliare del Comune di Crotone, ha riunito un parterre di professionisti della medicina e della sanità che hanno formulato anche soluzioni per migliorare quella che è la medicina di prossimità, ovvero l'insieme delle misure e delle strutture sanitarie e sociali predisposte per l'assistenza dei cittadini integrata a una rete di servizi territoriali al fine di curare e prevenire le malattie e di promuovere la salute sociale. Il focus di questo incontro non vuole essere il solito convegno per parlarsi addosso, ma presentare delle proposte oggettive per cercare di utilizzare i quasi 15 milioni di euro del PNNR che sono stati stanziati per il Sud e che sono fermi sul tavolo del governo e della regione per la mancanza di progetti. Ora sembra una cosa veramente assurda, vista la condizione del nostro sistema sanitario, non approfittare e non utilizzare questi soldi che se non utilizzati ritornano indietro e li spenderebbero le altre nazioni europee e per di più noi, come una parte dei soldi del PNNR, una parte sono a fondo perduto, una parte invece ci paghiamo gli interessi. Medicina e l'assistenza uguale per tutti, indipendentemente dalla latitudine o dalla ricchezza o povertà di un territorio. È un dovere garantito dalla Costituzione e dal buonsenso, non ci sono molte parole da spendere, sul fatto che chi abita in un territorio abbia il diritto di essere curato al meglio delle più moderne tecniche terapeutiche. A questo riguardo ciò che posso testimoniare è la condizione complessiva dell'assistenza, più specificamente di natura psichiatrica in senso lato e psicologica più in particolare. Questo è il mio campo di competenza e il convegno di oggi ha tra gli scopi principali proprio quello di delineare in che modo, restando nel quadro della medicina di prossimità, si possano sviluppare metodi clinici che prevengano e intervenire sul disagio. I metodi e le proposte non mancano, anche esperienze che arrivano per esempio da oltreoceano. Io sto introducendo in Italia ormai dal 2014 dei metodi che utilizzano l'arte per la formazione in area medica e sanitaria che si utilizzano appunto negli Stati Uniti, nelle grandi università americane, parliamo di Harvard, Yale e altro. Questo è un metodo che appunto utilizza l'arte come strumento e serve per sviluppare l'empatia banalmente, ma le capacità di osservazione, di problem solving e competenze utili per la diagnosi. Adesso in riva allo stretto a Reggio Calabria per il premio giornalistico La Matita Rossa e Blu organizzato annualmente dalla Fondazione Italo Falcomatà. Arricchita dal prestigioso conferimento della medaglia del Presidente della Repubblica si è svolta a Palazzo Alvaro, sede della città metropolitana di Reggio Calabria, la quattordicesima edizione del premio giornalistico nazionale La Matita Rossa e Blu organizzato dalla Fondazione Italo Falcomatà. Una serata che ha fatto il pieno di pubblico e che conferma ancora una volta il premio giornalistico dedicato al sindaco della Primavera Regina come punto di riferimento nel campo dei riconoscimenti dedicati al settore dell'informazione nazionale. La giornalista del Corriere della Sera, Francesca Gambarini, ha ricordato la figura di Rosetta Neto Falcomatà, moglie del compianto Italo, storica Presidente della Fondazione, scomparsa recentemente lasciando un vuoto non solo tra i suoi cari e tra chi l'ha conosciuta, ma nel panorama culturale, cittadino e regionale. Il giornalismo è lo strumento attraverso il quale si realizza la democrazia partecipata. Italo Falcomatà e la Fondazione di conseguenza credeva nella democrazia partecipata e la partecipazione non può esistere senza un'adeguata informazione. Che tempo farà nelle prossime ore ce lo spiegano anche oggi gli esperti di Trebimeteo. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebimeteo. Nella giornata di giovedì l'Italia resta dominata da un flusso di correnti umide e miti meridionali che fanno capo a una circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo occidentale, mentre più a est insiste un anticiclone di blocco sull'Europa orientale. Più nel dettaglio osserveremo dunque delle precipitazioni che coinvolgeranno soprattutto il nord e parte del centro, precipitazioni discontinue da deboli a moderate, mentre sul resto del sud, il medio versante Adriatico, il contesto si manterrà più asciutto. Vediamo quindi che tempo che ci aspetta sull'Italia. Sarà una giornata molto nuvolosa al centro nord, ancora una volta con precipitazioni, come dicevo, da deboli a moderate a carattere sparso, mentre il contesto si manterrà più asciutto e solleggiato al sud e sulla Sicilia, con temperature anche al di sopra delle medie, punte anche vicine ai 24-25 gradi al sud, fino a 18-20 gradi al nord. Maggiori dettagli li trovate sull'app di Trebi Meteo. È tutto col meteo, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video.